8 luglio 1973, il movimento è ormai nato. Non guardare né giornali né televisione, sta sempre sul mio cuore in preghiera. Nessun'altra cosa ti deve interessare o importare se non quella di vivere con me, per me. Il movimento sacerdotale mariano è ormai nato, ma è così fragile e piccolo che per crescere hai bisogno di tanta preghiera. Tu devi vivere solo per questo e nessun'altra cosa troverai gusto e consolazione.